Ci sono persone sbrusciche e melmose che sguazzano nei lorbi di frascemi e come strolicanti sciarmi infemi sguaiettano le loro sperciche crose. Sono troliche, ropertiche, aspartose e quasi certamente nei loro fremi attruzzano le trinze e coi castremi spalluzzano i bodicchi con le agnose. Invece tu, canterico arnellino, che appiali, che sfrillante nei nifriaci, che lilleri e che intrilli, ai lolino! Mi intruccherei con te dentro agli astraci, ti aggrabberei nel frigoloso prino e ti consumerei con i miei baci. Grazie a tutti!